Il Ghiaccio Macondo era allora un villaggio di venti case di argilla e di canna selvatica, costruito sulla riva di un fiume dalle acque di afane, che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche ed enormi, come uova preistoriche. Il mondo era così recente che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle col dito. Tutti gli anni, verso il mese di marzo, una famiglia di zingari cenciosi piantava la tenda vicino al villaggio e con grande frastuono di zuffoli e tamburi faceva conoscere le nuove invenzioni. Prima portarono la Calamita, uno zingaro corpulento con barba arruffata e mani di passero, che si presentò col nome di Melchiades, diede una truculenta manifestazione pubblica di quella che egli stesso chiamava l'ottava meraviglia dei savi alchimisti della Macedonia. Andò di casa in casa trascinando due lingotti metallici e tutti sbigottirono, vedendo che i paioli, le padelle, le molle del focolare e i tre piedi cadevano dal loro posto e i legni scricchiolavano per la disperazione dei chiodi e delle viti che cercavano di schiavarsi e perfino gli oggetti, perduti da molto tempo, ricomparivano, doveppure erano stati lungamente cercati e si trascinavano in turbolenta sbrancata dietro ai ferri magici di Melchiades. Le cose hanno vita propria, proclamava lo zingaro con accento aspro, si tratta soltanto di risvegliargli l'anima. José Arcadio Buendia, la cui smisurata immaginazione andava sempre più lontano dell'ingegno della natura e ancora più in là del miracolo e della magia, pensò che era possibile servirsi di quella invenzione inutile per sviscerare l'oro dalla terra. Melchiades, che era un uomo onesto, lo prevenne, per quello non serve. Ma a quel tempo José Arcadio Buendia non credeva nell'onestà degli zingari e così barattò il suo mulo a una partita di capri coi due lingotti calamitati. Ursula Iguaran, sua moglie, che faceva conto su quegli animali per rimpinguare il deteriorato patrimonio domestico, non riuscì a dissuadarlo. Molto presto ci avanzerà tanto oro dall'astricarne la casa, ribatté suo marito. Per parecchi mesi si ostinò a dimostrare la veracità delle sue congetture. Esplorò la regione palmo a palmo, compreso il fondo del fiume, trascinando i due lingotti di ferro e recitando d'alta voce l'esorcismo di Melchiades. L'unica cosa che riuscì a sotterrare fu un'armatura del XV secolo, con tutte le sue parti saldate da una crostaccia di ruggine, la cui covità aveva la risonanza vacua di un'enorme zucca piena di sassi. Quando José Arcadio Buendia e i quattro uomini della sua spedizione riuscirono a disarticolare l'armatura, vi trovarono dentro uno scheletro calcificato che portava appeso al collo un reliquiario di rame con un ricciolo di donna. E' la prima pagina di Cent'anni di solitudine, il capolavoro di Gabriel Garcia Marquez. E' un libro pubblicato nel 1967, ed allora rimasto uno dei libri più amati dal pubblico dei lettori. Uno dei libri forse che dà più piacere, proprio nell'esperienza della lettura, per la sua abbondanza di storia, la sua facilità di tono, di voce. Per chiunque ami i libri, un'avventura bellissima. Sono molti i libri che Garcia Marquez ha scritto nella sua lunga vita. Lui è nato nel 1927, ancora vivo, per fortuna, e vive felice tra Messico e Venezuela, un po' nascosto, non si sa esattamente dove sia, ma si protegge anche dalla fame enorme che ha ricevuto dai suoi libri, in particolare da questo. Libri che hanno valso anche il premio Nobel, e l'hanno messo quindi per sempre nell'empirio dei grandi scrittori. Capire lui significa capire, capire, ecco, insomma, entrare in quello che lui ha fatto, vedere più da vicino quello che lui ha fatto, significa anche abbastanza entrare nel mondo della letteratura sudamericana, una specie di porta più bella, più divertente, più facile di altre per entrare in tutto un mondo, e in un modo di concepire la scrittura, il racconto e i libri. Quel che faremo sarà qui, quindi entrare per quanto è possibile un po' in questo libro in particolare, perché davvero tutto il mondo di Garcia Marquez è lì, e cercare di capire da piccoli particolari, che però per noi scrittori in particolare sono rivelativi, sono come segreti di costruzione, da cui tu capisci tutto il mondo che c'è dietro. Ecco, capire che razza di scrittore era e perché è riuscito a generare tanto affetto, tanta riconoscenza, tanto divertimento in tutti i lettori moltissimi che ha avuto in tutti questi anni. Continue minacce da parte della CIA lo inducono presto a lasciare la città e a trasferirsi in Messico. Qui riprende la sua attività letteraria, pubblica al volume di racconti I funerali della mamà grande, e nel 1967 vede la luce il suo capolavoro, Cent'anni di solitudine. Negli anni successivi, che trascorre tra la Spagna e l'America Latina, scrive numerosi altri romanzi, tra i quali spiccano L'autunno del patriarca e Cronaca di una morte annunciata. L'autore gode ormai di fama internazionale e nel 1982 viene insegnato del premio Nobel per la letteratura. Tre anni più tardi pubblica un'altra opera di grande successo, L'amore ai tempi del colera. All'inizio degli anni 90 torna a vivere in Colombia, ma il clima di instabilità politica lo induce presto ad abbandonare il paese per tornare a condurre una vita itinerante. Tra i suoi lavori più recenti figura l'autobiografia Vivere per raccontarla, alla quale l'autore affida le sue memorie. Tra i suoi lavori più recenti